In arrivo il via libera alle nuove regole per la gestione della quarantena in classe, il documento redatto dal Ministero dell'Istruzione, Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità e alle limature finali. La novità più importante che verrebbe introdotta con il protocollo è la sorveglianza con testing con un solo caso positivo. La quarantena per tutta la classe verrebbe prescritta solamente in presenza di tre casi. Nel nuovo protocollo si prescrive che se l'ASL non può intervenire tempestivamente e il dirigente scolastico insieme al referente Covid a dover individuare i possibili contatti scolastici del caso positivo e a prescrivere le misure seguendo le indicazioni contenute nel documento. Il nuovo protocollo prevede un tampone a tempo 0 o T0 da effettuare il prima possibile dal momento in cui si è stati informati del contatto. Se il risultato è negativo si può già rientrare a scuola senza fare la quarantena. Poi bisognerà in ogni caso effettuare un secondo tampone dopo 5 giorni detto a tempo 5 o T5. Per i docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe dell'alunno positivo la situazione cambia. Se sono vaccinati fanno il test e restano a scuola. Se non lo sono vanno in quarantena per 10 giorni anche se il primo test è negativo. Rientrano se il nuovo tampone dà il via libera. Con due casi gli alunni e i docenti non vaccinati invece vanno in quarantena per 10 giorni anche se negativi. Con tre casi o più si torna in DAD. Nella scuola dell'infanzia fino alla prima media bambini appartenenti alla stessa classe del positivo è prescritta la quarantena di 10 giorni. Stessa cosa per gli educatori che però se vaccinati di giorni ne fanno 7. La valutazione del singolo caso è comunque carico del dirigente in base al tempo di permanenza nella sezione e l'entità del contatto diretto con il positivo.